a discutere l'avvistamento della familiola di orsi a spasso per la valle dei laghi non manca la polemica della lega preoccupata per le libertà che l'orso si sta prendendo ma non manca neppure l'emozione per chi ieri ha potuto godersi lo spettacolo un avvistamento spettacolare quello di ieri l'orso era accompagnata da tre orsetti l'ultimo albino dal manto candido e a vedere il gruppo di plantigradi sono state decine di automobilisti in transito in pieno giorno sulla statale della gardesana all'inizio della valle dei laghi precisamente a vezzano l'incontro con l'orso e i suoi tre cuccioli è una conferma delle segnalazioni arrivate in questi giorni dalla zona di cadine dove in alcuni terreni non lontani dall'abitato sono state rinvenute delle impronte resta da chiarire invece da dove salti fuori il magnifico cucciolo bianco grazie 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 grazie